Il tuo primo incontro con una canzone di Lucio Battisti, te lo ricordi? Sì, il mio primo incontro con una canzone di Lucio Battisti è avvenuto intorno ai 12 anni, perché quando rubavo le audiocassette da mia sorella, che era più grande, e che ascoltava anche Battisti, e quindi Battisti è stato, diciamo, Battisti e Mogol sono stati il mio imprinting musicale, quindi ho iniziato da lì proprio. L'alfabetizzazione musicale, secondo me non solo mia, ma poi di tante, di generazioni, di varie generazioni, e quindi quando mi hanno proposto il film, effettivamente uno dei motivi di grande interesse, appeal, e anche emotivamente, insomma, personale, è stato proprio quello del fatto che ho cominciato da lì, ad amare la musica. Ma quando ti hanno detto, ti va di fare un film ispirato alle canzoni di Battisti, hai, non dico esitato un momento, ma non hai pensato, mamma mia, aiuto, che cosa farò adesso? Sì, sì, ci ho pensato qualche minuto in realtà, perché il progetto nella sua follia mi ha conquistato subito. Però sì, diciamo che avevo voglia probabilmente di sperimentare qualcosa di diverso da quello che pensavo di saper fare e saper gestire. Avevo anche voglia di un progetto che fosse, che mi avvicinasse a un pubblico, diciamo, non solo di cinefil, non solo di, come dire, di appassionati del grande cinema, ma che fosse anche un pubblico proprio che va al cinema nel fine settimana per film di intrattenimento, in pubblico normale, trasversale. Perché comunque l'esperienza che ho fatto precedente, che è stata molto fortunata in ambito festivaliero, ho avuto molte soddisfazioni da quel punto di vista, il Davide Donatello, eccetera, però diciamo che ho avuto una distribuzione omeopatica, no? Per quello che riguarda la sala e quindi mi manca la sala e dal momento che io sognavo di fare cinema, comunque per incontrare il pubblico, uno dei motivi è che ho aderito a questo progetto per questo. Poi ovviamente bisogna vedere adesso come va. Che possibilità dà un genere come il musical a livello registico e anche visivo, immagino sia un modo anche un po' per sbizzarrire la propria immaginazione? Beh sì, è molto, diciamo è una bella sfida, ma è anche una grande opportunità per un regista, perché c'hai tutta una serie di scene musicali dove, diciamo meno, anche se le scene sono inserite dentro la drammaturgia, dentro, se anche hanno un addentellato realistico, però quasi sempre il musico tende a stilizzare un po' le situazioni, per cui ti ritrovi anche a girare cose molto strane, molto visionarie, che magari sono più difficili da inserire in un film drammatico o in una commedia, no? Quindi sicuramente dal punto di vista visivo è una buona opportunità. Mi racconti qualcosa del lavoro con gli attori, perché il passaggio dal recitato al cantato è molto fluido, cosa che a volte nei musical non avviene. Questo mi fa piacere, perché è una cosa in cui siamo arrovellati parecchio, diciamo, soprattutto in un musical che utilizza canzoni di repertorio, quindi non scritte, ma già con una drammaturgia già persistente, il rischio che siano scollate dal resto è forte. E per evitare questo abbiamo usato tutta una serie di accorgimenti. Sulla questione, sulla direzione, diciamo, canora, ovviamente ho avuto, mi sono confrontato con Pivio e Aldo De Scalzi, che hanno curato gli arrangiamenti, e quindi, diciamo, in un film tradizionale il regista dirige gli attori. In questo caso ho diretto gli attori per quello che riguarda le scene recitate e per quello che riguarda le scene cantate e danzate. Ho ovviamente fatto un lavoro in squadra con Tommassini e Pivio, perché, appunto, è il loro mestiere. Però, ecco, è stato bello perché, lavorando insieme, abbiamo proprio cercato di rendere organica la materia, di vedere, diciamo, loro non hanno pensato solo al loro orticello, loro pensavano al film nel suo complesso, e quindi ognuno ha cercato di sintonizzarsi anche su cosa viene prima, cosa viene dopo, cosa viene prima di una scena danzata, cosa viene dopo, per esempio, di una scena musicale, come si entra e si esce, queste sono cose fondamentali.